Lo strano caso delle carpe impazzite lungo il fiume Adda, fra Brivio e in Bersago, da qualche tempo a questa parte, decine e decine di carpe si ammassano a riva. Un fenomeno che si ripete ciclicamente e che ha fatto preoccupare non poco i pescatori e quanti hanno cuore il destino di questo splendido angolo della nostra provincia e di chi lo abita. Colpa dell'inquinamento, i pesci che abbiamo prelevato e analizzato, spiega Stefano Simonetti, presidente provinciale della Federazione Pesca Sportiva, erano sanissimi. Stiamo attendendo i risultati dei campionamenti dell'acqua, ma a giudizio dei guardi a pesca la spiegazione è un'altra. D'attesi che circola è che le carpe dell'Adda abbiano deciso di adottare questo strano comportamento per difendersi dai cormorani. Questi uccelli, in quel tratto di lago ce ne sono circa una quindicina, sono voracissimi e ogni giorno mangiano una quantità di pesce pari al loro peso. Dunque le carpe, in questo modo, si difenderebbero dai predatori. Questo è quanto mi è stato riferito, prosegue Simonetti, a riprova che per la fauna ittica dell'Adda la presenza dei corbonani e dell'Eteria non si possono abbattere, dunque sono in atto alcune azioni di disturbo da parte riguarda pesca per allontanare gli esemplari che oggi proliferano a danno dei pesci in questo tratto di fiume. Difficile dire se la tecnica messa in atto dalle carpe funzioni o meno, resta il fatto che così ammassate arriva si prendono facilmente anche con un rettino, un comportamento che alla luce dei provvedimenti presi però può costare molto caro. La sanzione per la pesca di frodo è di 500 euro, per quella cifra ci si può permettere qualcosa di meglio di una carpa di fiume.